Il supererato nuovo cuore di prossimo 15 cento, è un'attività di canzetti ancora di un bigliettista di QT italiani, una protesta per dire no alla cessione di voti del gruppo da parte del governo. E ieri comunisti italiani in Fionco si sono incontrati nel capologo d'orico per discutere di questo tema, di servizio di analizzazione di QT. No all'aspetto italiana in Fionco nazionale ha dichiarato 8-11-12 dicembre, con una manifestazione a Roma davanti a Palazzo Luigi. Quei posti chiaramente anche i lavoratori del cartiere d'orico che ieri insieme ai comunisti italiani hanno organizzato un mondo in Piazza Roma da Roma. La decisione pubblicata domenica dal Presidente del Consiglio, dicono di centri parte dei più voti di partecipazione del gruppo Fionco Cartieri, è l'ennesima sveglita più percibottante del patrimonio industriale del Paese. La Fionco nazionale e locale chiedono invece di rilanciare gli investimenti pubblici e incentivare le aziende a mantenere in Italia la produzione. Chiedono infine di valorizzare il patrimonio produttivo del Paese e le professionalità con un adeguato piano di sviluppo e consolidamento a partire proprio dalla Fingratire e dall'arsenale turco. Come ricordano i comunisti italiani, il cartiere è sempre stato un cuore produttivo della Regione con i suoi 4.000 difendenti, un cuore che però secondo loro procura a rischia di fermarsi.